I circonon in justum fore di nocitor, quatticot era Dei superium venit pro superbia, quain soa felicitate Deum offenderat. Vita et ipsin miseria existenti magnada retor konsolatio, geocod gravissima penitodin et vera homilitate ingevoit, quattam benignum creatore madiran provocaverat. Maiorem autem consolationem nequa quam potuiset adam percipere, quam si certifica retor, o deus ex eius generationen asi digna retor, ad animas illas homilitate caritate redimentas. Quas ipse adam, diaboli invidia depravatus, per soam superbia ma vita perpetua Dei etsera. A. 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 A.